buongiorno carissimi buongiorno martin hai preso caffè hai messo il rossetto questa mattina tour leggerissimo sul lungomare rimini riccione andiamo a vedere se sono pronti per la stagione estiva si va martì mi sa che dobbiamo aspettare un attimo per la stagione estiva qui a destra il barumba la ciclabile sul mare di rimini è tutta particolare ma che non so se l'hai notata non è una questione di san pietrini è una questione che qui siamo come in inghilterra andiamo a vedere si rialza a sinistra con un bello scalino lì pericoloso però dai non lamentiamo c'è c'è la cittadina tanta roba vedo il primo bagno attrezzato vive già pronto per gli ombrelloni attività quasi qui c'è aperte siamo giunti a mare bello te sei a conoscenza di questo posto io vorrei andarci sì discoteca storica c'era la mia mamma ma qui ci sono un sacco di vitelloni altro che il tango andiamoci possiamo partire col mojito beach vedi qui si stanno preparando per la stagione ci sono già le casse acustiche il giardinetto tutto pronto qui abbiamo la spiaggia dei bimbi allegri qui abbiamo l'opera o l'opera come si dice altro localino tiratissimo del marano da da alla conquista di riccione è stato un giro incredibile faticosissimo lunghissimo 15,3 km ma mia torniamo a casa va comunque ragazzi ancora qui la stagione siamo in alto mare guardate un po come dicono giù è un pochino freddo, è un pochino freddo, si ritorna Rimini ciao